Ci hanno intercettati Occhi gialli, sembra posseduto Abbiamo sabotato la linea Non volevamo che rivelasse 420 Informazioni non necessarie Allora è caduta in una delle nostre Meravigliose trappole Faremo in modo di trovarla Non preoccuparti per lei Oh sì Ha liberato i nostri poveri insetti Giù nelle fogne Ci sto per tenerli in esercizio Grazie, mi faranno compagnia Sto morendo di noia Non vedo l'ora di vederli In un'altra vita Cioè, immaginate se Leon morisse nelle fogne Come un mongolo Dopo aver detto sta roba Immaginate all'altro Ho visto qualcosa brillare Oddio Cosa? Stai cercando di nascondermi un tesoro Morirebbe come un mongolo La farebbe pure una figura di merda Io me la Io fossi un cattivo E il mio principale nemico Facesse una brutta fine Dopo aver detto Grazie, mi stavo annoiando Me la sbellicherei da ridere Lo sfotterei ai 420 Proprio Lo racconterei a tutti Eh, sto coglione Veramente, Leon Non devi dire queste cose Non si sa mai Vattene con un po' di dignità Allora Quali insetti? Sul serio Io ho visto qualche video Però non so quali insetti Mi aspettino Nelle fogne Spero siano Simpatici Oh mannaggia Cos'è stato quel rumore? Escono da lì, no? Ho sentito clip, clip, clip Sembravano delle ranocchie Sembravano Oh Dice qualcosa Sono invisibili? Stai scherzando? Sono invisibili? Oh mannaggia a te Sono fottutamente invisibili Guardalo lì Guardalo lì Convinto Ehi Salti pure sui muri Questa non è una bella cosa Poso, crepa Dove è andato? Oh Quello è il rumore di un attacco Poso Ma cosa vuoi fare? Guarda che ti accoltello, eh È morto È morto Quando ho deciso di accoltellarlo è morto Occhio Rosso Mi serve per aprire delle porte Dai clip, clip, clip Forse dovrei utilizzare la metra elettrice In questo In questa fase Oddio Dove sei? Dove sei? No, 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 no Ah Oddio Odio gli insetti Cioè in realtà non li odio Odio gli insetti nei videogiochi Especialmente quelli che si arrampicano così Sai cosa? Ma qual è il problema? Venite questi in patacone Dove state? Eccolo qua Cosa? Cosa? Cosa c'era, nocchia? Che succede? Ne vuoi un altro? Ne vuoi un altro? Oh, bastardo Questo è una... Oh no, me l'aspettavo Scuotere di dosso Scuotere, scuotere Sto scuotendo Oddio Questa è una brutta Sarebbe acido Quello è acido Allora? È ancora vivo Ma cosa vuoi fare? Puoi salta sul soffitto, eh Sto stronzo Quando Quando prende danni Oh, ce n'è un altro Bestia Che fai? Ancora viva? Oh sì che è ancora viva Posto? Vai Ma vai via, scemo Oh, la musica è finita Perfetto Beh, lì ci sono delle munizioni per la mitragliatrice E che mi suggerisce che forse dovrei utilizzare la mitragliatrice Occhio verde Munizione pistola Seriamente mi dai anche munizioni per la pistola L'hai detto? A zia le munizioni per la pistola Forse dovrei utilizzare la mitragliatrice Anche perché l'ho potenziata mi pare Eh sì, l'ho potenziata nel episodio precedente Forse adesso Non mi ricordo No, no, adesso non sono stato con la mercantola L'ho potenziata già Apri Dove siete? Sì Oh Questo non è una bella cosa Non è una bella cosa da fare Oh Ma sul serio? Dove sei? Dai Che è sto attacco brutto? Ancora E crepa Ok, sono rosso Quindi dovrei Usare questo suppongo Uh Beh, la mia vita sta aumentando a si smisura Altri Altri Ancora Cosa c'è? Che hai fatto? Dove sei finito? Oh, eccolo qua Dai, sul serio L'ho scosso L'ho scosso Mannaggia te Dove sei? Ma perché di quella Di sé? Ah, ancora L'ho scosso Eh, su, via Sono finito Sì Oh Ah Disgusting Beh, non è una bella fine quella Dove sei? Clip, clip, clip Forza che ti ho sentito No, era un inganno della Kdrager Sono un rumore ambientale Dove sei? Ma sul serio? Non ne frega niente questo qui che li spari io Sai cosa? Vieni qua Vai via Ancora a posto? Sei felice? Non è più felice Ok Di nuovo occhio verde mi hai dato Inutile sacco di pulci Un insetto può avere pulci? Non credo che Cioè, credo che ci sia un po' di fraternità tra le Tra gli insetti Nel senso non si attaccano tra di loro Dai, sei finito No Ma cosa sto facendo, scusate? Ma perché? Tieni ragazzo Posto? Ciao Sono ancora vivi Riesce la musga brutta Sul serio? Sono sopravvissuti a una granata a sti cosi Ok, ora sono morto Posto ragazzi? Spero proprio di no Dammi i tuoi soldini No, credo che si vendano queste cose Sì Perché è cambiato Prima erano occhio verde, occhio rosso Adesso è tutto occhio verde Spero che l'occhio verde valga di più di quello rosso Anche se in realtà io preferirei una corona di rubini Piuttosto che una corona di smeraldi Non so voi Sono gusti No, basta Non ne frega niente Ho sparato con il fucile a bomba Non ne frega niente Ancora vivo Eh dai Mannaggia te di una bestia schifosa Dove sei? Eh crepa Oh Dammi tu Dammi tu i soldi Ok Oh, si è guardato un po' male Alle spalle Che vuol dire che sta arrivando qualcuno E cosa? Usiamo queste due Così siamo a posto Oh Non mi toccare Vomita tua sorella Dove sei bestia? Per utilizzare la pistola secondo voi? Sì Usiamo un po' di pistola Dove sei? Oh caspiterina No Calcio Calcio Sul serio? Gli sto per tirare un calcio Non pensavo si potesse Dove sei? Cadi giù Oh è morto Perfetto Brutti sti insetti invisibili Più che altro E' brutto anche il fatto che sopravvivano così No Altri Ancora Mi lasci in pace Oh Non mi toccare Dove sei? Porta La grande Musica è finita Prendere che cosa? C'era prendere Ah aprire Questa porta è troppo arrugginita Non si apre Che vuol dire Troppo arrugginita? Ci devo sparare Devo attaccarla Troppo arrugginita Non si apre Qual è il senso allora Di metterla lì? Di mettermi sto messaggio Posso passare tipo C'è un passaggio segreto? Non lo so Non credo Un'altra stanza Da combattimento Questa Ah Ok Qui probabilmente Devo fare qualcosa Oh tesoro Sembra prezioso Lampada farfalle Ok A qualcosa servirà Doppietta Perfetto Qui Devo girare questo? Sì Far defluire l'acqua Assolutamente Sì Credo di dover venire Che sarei dovuto venire Di qua A prescindere Ok Oddio Ho sentito un'altra creatura Qui non si può aprire La prigione comunque Complimenti Vabbè Quanti siete? Eh crepa Eh Ci mette poco a morire Ultimamente Munizioni fucile Stavolta mi dai munizioni fucile Eh dai Ma quanti siete? Basta Lasciatemi in pace Cosa? Hai pure gli artigli Vomiti Acido Sei invisibile Vomiti Hai gli artigli Ma allora sei Sei una creatura proprio Pericolosissima 30 munizioni La tua sorella Li dai 30 colpi Ma non di quel tipo Ah Un altro Ma credi davvero Di essere invisibile Con quegli occhi Magari corri a occhi chiusi E non ti vedrai Oh Che bello Ho fatto per caso eh Reazioni di 0,5 secondi Voglio un premio Voglio un like Lasciatemi un like Solo per questa azione Ricordate Lasciatemi un like Niente Prigione inutile Sparisci Dalla mia vista Saltare giù Sfondare porta Clip Dove sei? Lacrima viola Dammi tutto Dove sei? Ah eccola lì Beh effettivamente La mitragliettrice È molto più efficace Contro queste cose Dammi tutto Dai Due colpi di cecchino Due colpi di shakira Tu sei? 900 monete Oh Siamo usciti da telefonia Quindi niente più nemici invisibili Ma grande Finita Oh Grazie a Dio Credo che sia un insta kill Quindi dovrei fare attenzione Flip Uh Piano Via Ah Che forza Oh c'è qualcosa lì Lacrima viola L'ho vista Solo grazie al Scintillio Ok Siamo usciti? Siamo usciti? Oh Siamo usciti dai forni È la grande Niente più insetti Qui Spinello Oui Dammi tutto Oh Siamo usciti Oh oh Morir Es vivir Morire È vivere Ah ma non so Che sono qui Secondo me posso far Cadere il candelabro? No Pensavo di poter Far cadere il candelabro No 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 Mi hanno notato No Sul serio Com'è che mi hanno notato? Riprovo a carica Riprovo a dar un checkpoint Sì 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 Cioè dammi un secondo Pensavo di poter far cadere il candelabro Ma allora se fai il suino Allora vi do una granata ragazzi Ma l'ho capito io Buon appetito Ciao ciao Bello No 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 Saltare giù Ancora vivo Chi è che è ancora vivo? Ma sono tesori questi Tutti spinelli e roba Roba Dove scappi? Oso Oi Che cosa hai se tu sei più stronzo degli altri? Oh 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 Ora sei incazzato Ora è incazzato Ora è incazzato Ora verrà verso di me vero? Oso Sì ora viene verso di me Madonna Sembra proprio Callisto Protocol adesso Quella è una collana che brilla Quindi suppongo che Madonna Ho fatto benissimo a lanciare una granata Quanti soldi Quanti soldi Dammi la tua collana schifoso Sembra una collana molto preziosa Mamma mia Tutti con un spinello Ciondolo illuminados Dammi tutto Che stiamo facendo qua? Un sacrificio Morire e svivire Ma tua zia Ma guarda te sti mongoli Oh Ma mi spaventi così? Ma non mi spaventi così? Ho sentito le sparatorie che c'erano ragazzo Allora Ho prodotti rari da venderti Vista giornata di che cosa? Ho guardato Non ho la pistola Non la posso potenziare quella lì Ah però Posso potenziare il fucile Antissima mossa Ma sì perché no Not enough cash Stranger Incazzato eh Quando provi a comprargli la roba Non hai abbastanza soldi Proprio si incazza forte sto ragazzo Allora Ti mando tutti gli spinelli Che ho trovato finora Sono tipo 12 Madonna Tantissimi Lacrime viola Tutte tue Occhio verde C'è una tre rientranze Secondo me nelle tre rientranze Posso inserire gli occhi Possibile Posso inserirle? Dai zitto Vai a vedere Tappo di bottiglia non mi interessa Abbina? No 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 Ok non si può fare Ah no quello è il boccale Abbina Oh sì Posso farlo Ci sono tre colori Io ne ho trovati solo due È colpa mia Scusami se quelli là Mi hanno droppato solo questi colori Mannaggia a te E le tue tre rientranze Posso abbinare questo con gli occhi? No Mannaggia a te e i tuoi tre occhi Aspetta c'è un ciondolo Che voglio vedere quanto vale Dai Parlami No Vendi 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 Tante cose belle Ciondolo Illuminatus 1200 12.000 Tutto tuo Lampada farfalle 11.000 Occhio rosso Beh non credo che mi servirà Visto che ora l'ho inserito qua Lampada farfalle Boh Possiamo aspettare un pochino Magari riesco a trovare qualcosa Però posso andare adesso Eeeh Dove devo andare? Di qua? No di qua è chiuso Eeeh Di qua Forse posso andare Sì però cambio stanza Eeeh Eheh Il corpo di questo qui non sta sparendo Incredibile Secondo me mi sono perso un tesoro A fare quella roba lì che ho fatto Ah ma sono tornato Lì dove c'era la trappola Sono tornato all'inizio praticamente Sì sono tornato all'inizio Ah ok 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 ci sono Quindi adesso devo per forza andare di su Non ho scelta Ok No problema Però Scusami Dove rifarmi tutta la strada per arrivare fino lì Cosa mi sono perso non andando lì? Non lo so non mi interessa Non mi interessa più Andiamo Mi interessavano di più i soldi E tipo sta proprio scappando eh Oh che bel quadro Prendere cose Sto cercando di esaminare il quadro Non ho neanche visto la pianta rossa Oh Qualcuno sta parlando Qualcuno sta parlando Ma non è in questa stanza Oh se c'è una canzone proprio Da boss fight Da Da combattimento Da area di combattimento Ho solo Ho solo 117 colpi per la pistola Come farò? Solo potessi potenziare un po' di più Oh Oh quello c'è una chiave Quello c'è una chiave Aspetta chi sta Aspetta 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 Ti vedo da qui No Ciao belli Aspettate che devo uccidere il vostro capo C'è una cosa molto importante No Si è nascosto suino Cosa c'è Cosa c'è Dove ti nascondi Tu Cosa speri di fare E' sopravvissuto un Bastardo Ce ne sono altri Ce ne sono altri Ah qui sta Sì 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 Proprio lì che sta Dammi un secondo amico No Niente Sul serio Ok Qui c'è qualcosa La gente dice morire e vivere Ma veramente Credete una stronzata del genere Morire non è vivere Morire è morire La cosa che sei morto è game over Finita Non c'è più storia per te Morire non è svivire Morire è smorire Punto Eh sì sì Cogelio Cogelio Quello che dici tu Dammi la testa intanto Bra Oh Gli sto per spuntare una cosa brutta Oh Stata dal vetro Mi aspettavo che ti spuntassero uno schifo Ma io è brutto Che è quello schifoso Questa roba mi uscirà dalla gola A me Ma assolutamente no Ma quella roba è più programmata per uccidere Più che altro Come fai a dire che Infetterà l'intera L'intera America Si è programmata per uccidere Capisci Non ha un senso logico Oh Tua zia Dove cavolo ti stavi nascondendo che non t'ho visto Calcio in culo Davi la testa Eh crepa C'è qualcuno altro di dietro di me Lo sento qualcuno gridare Matalo Chi è che vuole matare Te la do io la martanza Figlio di Figlio di Di quello che sei Non so neanche io di chi sei Però Sicuramente non è una donna Dai Dai buon costume Cosa Cosa c'è Cosa c'è Cosa c'è Cosa c'è Cosa c'è Ok Ah finito di parlare Meglio così Ma contenti Altri nemici Quelli con la palestra L'ho uccisi tutti Quindi non dovrebbero essere un problema Eh Eh Vi vedo Su serio Credete di essere nascosti Che mongoli Ah Guarda sto suino che scappa Dove scappi Quindi se io Tranquillo Ci penso io a lui E questo qui continuerà a scappare Per un bel po' Quindi Perché ha la chiave Cosa Che cazzo ridi Che cazzo ridi No Aspetta Dammi un secondo Che sto uccendo Gli ho Gli ho sparato palesemente E non è morto Sto stronzo Ci penso io a lui Qui si può entrare Non mi interessa Al momento Però che cosa c'è dietro Ah è chiuso Ok Non si può entrare Ah Le munizioni Uh Big cash Big money Dove è andato il vostro capo Ci penso io a lui E' finito E' entrato in quella porta Ma secondo me se lo seguo Lui Continuerà a scappare Quindi devo praticamente Tagliare la strada Facciamo i furbi va Facciamo i furbi Meglio così Il furbo Innanzitutto Utilizzerebbe Un po' di erba Abbina Non è un'erba giallo Scusami Ok Ecco qua cosa farebbe il furbo Prima di tutto Poi Il furbo Scenderebbe giù Per intercettare Lo stronzo Farebbe una roba così E occupaggerebbe Il fucile antissommossa Nel caso di Eventuali simpaticoni Ah Dove vai Dove vai Dove vai stronzo Dove vai Eh Eh Mani in alto Ah è morto Aveva proprio uno sputo di vita Ancora vivo Vai vai Rialzati E' sicuro di volersi rialzare amico E' sicurissimo E' sicuro di volersi rialzare Di che cosa Oh Tu stronzo come osi Tu stai giù Quanta vita Madonna mia Apparisci tu mongolo Mongolo pelato Dai qua la tua chiave Della galleria Eh Sei quello che dici tu Sai cosa Mi stai sui coglioni Particolarmente tu Ti sei meritato Colpo di fucile a pompa In faccia Allora La musica è finita Quindi Immagino che sia finito Anche il combattimento Contro questi deficienti Tagliamo la strada In questo modo Da furbi E direi di Usare la chiave Ah Tutto qui Tu tenevi Tu tenevi la chiave Per questa porta L'uomo è molto felice Sta per giocarsi la testa Il sacrificio di sei vite Porterà una nuova luce Quindi devo sacrificare sei persone Quale interruttore vuoi premere? Ah Uno Ah devo fare tipo sei Ok Ho capito come funziona Ho capito come funziona Devo farne diventare Devo farne sei Quindi uno Così Tre No Ho sbagliato Quattro Ok Quindi uno No Non va bene Ho sbagliato L'importante è che non esca Una roba così Ok Quindi cambiando il tre Cambiarà questo E no Ho di nuovo sbagliato Perché così Cambia questo Quindi Allora facciamo così Facciamo così Questo va qui E questo va qui Perfetto Sei vite Leva di dal cazzo Ok Grazie di indovinelli Donna mia Per le elementari Mio nipotino Sarebbe in grado Di fare ste stronzate Magari a te Oh Apri sta porta Ah Questo è un boss Ah no è Salazar Ti piacevole sorpresa Sei sicuro Ma temo che Ashley Sia quella In cui abbiamo bisogno Tu non ci servi Mr. Kennedy Se non hai bisogno di me Allora lasci in pace Vecchio Non è vecchio Un bambino Vecchio dove Si è offeso Perché mi hanno detto vecchio No non mi sorprende Si vede che Anzi 20 anni Sono anche a troppi Te ne darei forse 8 o 9 Vorrei certo Per paragonarmi Con i miseri Ganados I parassiti Le plagas Sono schiavi Dalla mia volontà Ho il controllo Assoluto Sei sicuro? Mi pare che tu ti sottometta Signor Sadler Quindi Non sei proprio Il controllo assoluto Oh oh Ragazzo Devo premere qualcosa Liberatevi dal nostro amico americano Sicuri? Guarda cosa che Ho tante granate E non Ok siamo nei guai Ora siamo rinchiusi Aspetta Chi è sta? Ci penso io a voi Non ho così tante granate Come credevo Io invece Chi la vuole? Chi la vuole? Oddio Le lanciano Lanciano le falce Ma siete pazzi? Come fai a lanciare una falce? Non è per niente Non è per niente Ora sei disarmato Coglione Come la mettiamo? Non è per niente aerodinamico Lanciare una falce così Un falcetto È un conto Ma una falce Cosa ti abbassi? Cosa ti abbassi? Cosa ti abbassi? Ma vai via Ok Oh Ok non li spunto niente Ancora? Alto Oh Questo con la balestra Ma posso sparare a quelle cose Per fargliela cadere in testa Effettivamente Oh Via Dai Tua zia Uh Vai via Spostati Oh Questi hanno le lanciarazzi Non è una bella cosa Non è una bella cosa Via 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 Salta 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 Male Quante balestre avete voi? Piano B Vai via Oh Ancora? Da dove mi stai sparando tu? Via Via Oh oh Questa è una cosa nuova Oh Da dove arrivi tu? Mannaggia te Lasciami in pace Ho sentito qualcuno Ho sentito il pannello di Dei lanciarazzi Oh oh Via Dove è il pannello dei lanciarazzi? Ah Ah No 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 Fermi 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 Non voglio diventare uno spiedino Ah no Non è il pannello dei lanciarazzi Ok ho capito cos'è Ancora Un altro Un altro Qui è spuntata la roba Andiamo un secondo Ho solo sei colpi Ciao Ciao Dai Ok Altro Ok Ho finito i colpi per il cecchino Questa non è una cosa buona Non è per niente una cosa buona Aver finito i colpi per il cecchino Però Abbiamo ciso tutti Ed è finita pure la canzone brutta Meno male Meno male Meno così 1400 1400 Cioè non è niente È una miseria mi state dando Ma poi dov'è Dov'è il pannello che si è girato Che mi ha fatto spuntare tutta sta gente brava Non ho ancora capito Non l'ho visto Questa si apre Si apre come Uh pianta gialla Dammi qua Dammi qua Abbina Ok E utilizza No non voglio scendere Però voglio capire dove devo andare Devo andare forse di qua No Forse di qua Può darsi Tu entra Uh pianta verde Dammi tu Lì c'è una porta per caso Uh c'è un pulsante rosso Cos'è Disabilito la modalità di emergenza Si Uh tesoro Sembra un bel tesoro E come ci arrivo fino lassù Stai scherzando Dimmi che Oh 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 Dove siete Non vi vedo Non riesco a capire dove siano Dove sono spuntati Dove Oh eccoli qua Alle spalle Bastardi alle spalle Sono spuntati Sti suini Come potevo fare a sapere Che ti spuntano alle spalle Fammelo vedere Salta Per Sei stupido forse Perché mai dovrei saltare giù C'è 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 E saltare giù Sei stupido Fai dei salti Della madonna E poi non puoi saltare qui Cazzo di cretino Forse qua dietro C'è C'è una specie di leva Può darsi Potrebbe anche darsi No Non c'è Ho premuto il tuo pulsante di emergenza Ma dov'è Che cavolo è Che Dove andare Forse è dietro Dentro questo vaso No Cosa dovrei fare Che potrei fare Far Oh Dammi qua Far 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 Fere francese Far Commissione di pistola Ok Devo ancora riprendere No non posso riprendere Allora che devo fare scusami Se non puoi saltare Non capisco niente Sono troppo stupido Oh c'è una porta qui Come ho fatto a non vedere l'aprivo Oh Oh c'è un pulsante Ok Come immaginavo Come immaginavo Oh Oh Oi 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 Sì sì E ora E ora Ah quello si è suicidato Bravo scemo Prendere che cosa Non saltare giù Devo scavalcare È diverso dal saltare giù Mi stai a dire che dentro quel forziere Ci sarà Qualcos'altro da premere Ah no Una Ok C'è una delle decorazioni Tutto chiaro Tutto chiaro Cioè non dovrebbe funzionare al contrario Un tesoro Scusami Se raccolgo il tesoro Mi rinchiudo dentro Piuttosto che Disabilitare qualcos'altro Ok Siamo arrivati alla prossima fase del gioco Però Siamo arrivati anche alla fine dell'episodio Gente Quindi grazie per il mio guardo fin qui Ci vediamo nella prossima puntata di Resident Evil 4 Vi auguro in questa prossima giornata E al prossimo video Bella Bella Grazie a tutti